benvenuti sui nostri siti radiofonici per ascoltare delle buone riflessioni tratte esclusivamente dalla parola di dio potrai ascoltare ancora della buona musica gospel italiana e straniera e ancora tante testimonianze che parlano del nostro caro gesù vogliamo così invitarti a collegarti sulle nostre radio radio evangelo vidonia radio evangelo italia radio evangelo centro italia potrai anche trovare le applicazioni da scaricare su app store e google play e così potremmo farti compagnia anche attraverso il telefonino naturalmente potrai sempre telefonare sul numero che troverai proprio su questo spot in sovra impressione su una delle immagini che stai guardando lo scopo di queste radio è proprio quello di evangelizzare e quindi farti conoscere la salvezza in cristo gesù egli attraverso la sua morte in croce ha sparso quel sangue così prezioso che ancora oggi e per sempre potrà perdonare ognuno di noi dai nostri peccati poiché dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo nigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna siamo sicuramente convinti che ascoltando le nostre radio potrai trovare sollievo alla tua anima e al tuo spirito e se ancora non conosci gesù potrai conoscerlo allora buon ascolto e se vuoi interagire con noi chiama pure su numeri in sovra impressione e saremo ben felici di poter corrispondere con te buon ascolto da tutti noi e dallo staff delle nostre radio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti